Musica Hello Good Year, ciao, bentornata e bentornata Dopo che hai visto come configurare un computer avrai ben capito che sarà giunto il momento di assemblarlo Chiederai come si fa? Semplice, hai stampato la tua configurazione seguendo le lezioni precedenti Poi sei andato in un negozio che normalmente vende articoli informatici hai quindi acquistato tutti i componenti e stai tornando a casa Sul più bello, nel viaggio di ritorno comincia, credo, a farsi sentire una sensazione di disturbo mentale su quel che hai fatto e quel che dovrai fare o meglio, cominceranno ad apparire i primi dubbi Cosa ho fatto? Avrò commesso un azzardo? Penserai di esserti lasciato trascinare da me? In sintesi, non saprai come muoverti o meglio ancora, come assemblare il computer Bene, Guter, non ci pensare in quanto ti ho detto che pian piano avanzeremo nel percorso didattico che ci assembliamo i computer da soli quindi, questo sarà il tuo prossimo passo ci vorrà un po' di tempo, un po' di pazienza un po' di errori che commetterai tutto sommato fa parte del gioco ma alla fine, tu assemblerai il tuo computer con le tue mani devo però soltanto avvisarti che questa parte del percorso per ovvie ragioni sarà ricca di informazioni e quindi relativamente lunga perché dovrò spiegarti una serie di procedure che se tu seguirai la lettera o anche con una certa apertura mentale ti permetterà davvero di riuscire a dar vita alla tua creatura Ok, ma come si comincia? Per prima cosa, dobbiamo controllare la lista della spesa Cosa hai acquistato seguendo il configuratore? Come minimo il case, quindi la custodia del computer avrai acquistato l'alimentatore interno che permetterà di alimentare tutte le periferiche interne che andranno quindi installate sulla scheda madre una ventola ausiliaria se non viene fornita insieme alla scheda madre il processore che sarà quindi il cervello del sistema con allegato il dissipatore ma ti sarà necessaria anche una pasta termica per poter collegare il dissipatore al processore poi avrai acquistato anche la RAM quindi la memoria continuando la scheda grafica se eventualmente hai deciso di acquistarla anche se magari fosse presente già integrata nella scheda madre il disco rigido nel quale memorizzerai tutti i tuoi dati e soprattutto il sistema operativo un lettore masterizzatore DVD la tastiera ed il mouse naturalmente che saranno le interfacce tra te e il computer le casse acustiche se vorrai ascoltare i suoni messi dalla scheda audio il monitor ovviamente per poter vedere ciò che combina il computer infine il sistema operativo se già non lo possiedi diciamo che questo è il minimo indispensabile per poter poi allestire un computer completo tutto sommato però potrai anche acquistare in seguito un model router che ti permetterà di collegarti ad internet avrai acquistato o forse acquisterai una stampante un'eventuale scheda audio aggiuntiva se vuoi migliorare le prestazioni audio del tuo computer una scheda FireWire se vorrai interfacciare il computer ad altre preferiche tipo videocamera, fotocamere eccetera cuffie e microfono se avrai la necessità di vederti in videoconferenza o chattare con qualcuno all'altro capo del mondo infine acquisterai un gruppo di continuità per essere più completo e svincolarti da eventuali blackout e quindi anche una ciabatta di collegamento per tutte le varie periferiche diciamo che principalmente nel luogo in cui dovrai assemblare il tuo computer devi farti un bel po' di spazio per lavorare perché dovrai lavorare con comodità e sicurezza per evitare di farti del male oppure causare danni ai vari componenti quindi ampio spazio gli strumenti propri per l'assemblaggio saranno un paio di cacciavide magari uno a croce ed uno ad intaglio di dimensioni medie una pinzetta per poter afferrare meglio i vari componenti, spinotte di piccole dimensioni e poi, non spaventarti un tappetino e braccialetto antistatico potresti non aver compreso cosa intendo dire con braccialetto e tappetino antistatico bene, per questo non ti devi assolutamente preoccupare in realtà ti darò una spiegazione di quel che significa possedere un braccialetto e un tappetino antistatico e ti spiegherò poi un artificio, un piccolo trucco per poter evitare di acquistare questi strumenti devi sapere che alcuni componenti elettronici sono sensibili alle cariche elettrostatiche o peggio ancora le cariche elettrostatiche se vengono in contatto con questi componenti li danneggiano irrimediabilmente tali scariche probabilmente le avrai senz'altro provate nel corso della tua vita magari non saprei che si chiamassero così in realtà hai mai preso una scossa toccando una macchina o sfiorando qualcosa o qualcuno se magari indossi abiti sintetici e tra l'altro fuori tira anche un bel po' di vento sicuramente l'avrai presa bene, quello shock, quella scintilla in realtà è una corrente che se riversata su questi componenti elettronici sensibili a tali cariche distruggono gli stessi in maniera irreversibile l'effetto che vedrai ovviamente non sarà quello che prendono fuoco, evaporano, bruciano e cose del genere ma semplicemente subiranno l'azione passiva di questa corrente che danneggerà i circuiti interni e quindi non funzioneranno mai più il loro successivo alloggiamento la loro ubicazione sarà nella migliore ipotesi una discarica dedicata per i rifiuti elettronici se tiene all'ambiente se no chissà quindi alcuni componenti elettronici del computer in particolar modo la scheda madre che è quella più esposta sono proprio i più sensibili a subire tali conseguenze tali eventi anche se vedrai da molte persone manovrare con una certa superficialità con una certa leggerezza la scheda madre o comunque certi componenti elettronici a mani nude e quindi senza precauzioni tu già sai ovviamente che cosa può accadere si corre il rischio di danneggiarli in maniera definitiva cosa dovrai fare tu quindi? beh se pensi di fornire in seguito anche un servizio di assemblaggio o assistenza di riparazione per pc allora dovrai acquistare un bel kit completo antistatico che comprende un tappeto da ubicare sotto i tuoi piedi un tappetino più piccolo da stendere sul tuo banco di lavoro sulla tua schivania dove assemblerai o disassemblerai dei computer un braccialetto antistatico una base per l'aggancio dei vari pezzi del kit e quindi un cavetto che ti permetterà di collegare il tuo braccialetto alla base di aggancio quest'ultima poi dovrà essere collegata ad un punto di terra del tuo banco di lavoro della tua schivania questo è un kit molto professionale quindi specifico per certi laboratori e noi cosa facciamo? bene nel nostro caso sostanzialmente non è necessario attingere a così tanta professionalità anche se ovviamente sarebbe la migliore soluzione tutto sommato possiamo realizzarci un kit molto grezzo ma abbastanza efficiente ti devi procurare un filo elettrico abbastanza lungo diciamo di qualche metro tipo quelli che si usano negli impianti elettrici di casa prendi questo filo spellani circa un 10-15 cm ad ogni estremità ossia togli la plastica di protezione una delle due estremità le attorcini intorno al tuo polso in modo da formare un braccialetto anche se un pochino grezzo il resto quindi l'altra parte la colleghi alla tua banca alla tua schivania al tuo punto di terra però del banco e della schivania in alternativa se non hai un punto di terra molto vicino un termosifone va più che bene così facendo non farai altro che scaricare eventuali cariche elettrostatiche presenti sul tuo corpo sui tuoi vestiti a terra grazie a questo piccolo circuito salva componenti anche se questa tecnica come dicevo prima è un po' grezza e può far abbrividire i professionisti del campo è sempre meglio averla piuttosto che maneggiare in maniera impropria tali componenti a maggior ragione se siamo inesperti e non sai dove toccare questi componenti bene Carlo mi dirai ma a questo punto quando cominciamo? Perfetto iniziamo sostanzialmente ad aprire tutte le scatole una per volta curando però di non distruggerle perché perché molti negozianti per dar vita alla garanzia per rendere valida la garanzia non solo ti necessitano di presentare lo scontino ma anche consegnare il componente all'interno della scatola integra per filtrare un pochino le garanzie se vogliamo dire per cui riguarda lo scontrino diciamo che la carta non ha una durata all'incirca di due anni per tutta la durata della garanzia quindi ti conviene effettuare anche una fotocopia dello scontrino stesso dopo di questo all'interno della scatola dovrai verificare la presenza di alcuni dischi driver dove previsto in particolar modo questi driver li dovrai trovare sostanzialmente per la scheda madre e per la scheda grafica se la è acquistata separata dalla scheda madre per gli altri componenti sostanzialmente non sono fondamentali i dischi dei driver in quanto il sistema operativo durante la fase di installazione caricherà automaticamente quasi tutti i driver laddove nella ipotesi remota dovessero mancarti sarà comunque possibile accedere agli stessi tramite i siti dei produttori nella scatola del case dovrai trovare dall'altro anche delle viti dei distanziatori di plastica qualche aletta di metallo oppure altri cavetti e fili che potranno essere utilizzabili se il case presenta qualche interfaccia di accesso opzionale ad esempio nella zona frontale nella scatola della scaramata invece dovresti trovare dei cavetti spinotti e fili generici che ti serviranno per collegare le varie periferiche interne al pc troverai infatti ad esempio uno o più cavi satatati di color rosso sostanzialmente che ti serviranno per collegare i dischi rigidi e gli eventuali lettori alla scheda madre stessa ancora sempre altri cavi sata ma stavolta per cui riguarda l'alimentazione delle periferiche per poter dar corrente alle stesse anche se c'è da dire che verosimilmente questi ultimi cavetti potrebbero non servirti in quanto di norma l'alimentatore che avrai acquistato presenterà tali interfacce poi troverai un cavetto per collegare l'uscita audio del lettore o masterizzatore dvd alla scheda madre al suo ingresso audio eventualmente la scheda madre presentasse anche un'interfaccia IDE allora noterai anche all'interno della scatola della scheda madre un cavetto IDE per poter collegare le interfacce con questo standard all'interno dello stesso ci saranno anche altri fili per collegare periferiche e schede interne infine potresti trovare verosimilmente una mascherina metallica che servirà di copertura per i connettori retro della stessa scheda madre ora che hai svuotato tutte le scatole quindi riponi le stesse in una zona senza poterle danneggiare come dicevamo e posiziona tutti i componenti sulla scrivania in maniera abbastanza ordinata pronti per essere assemblati assemblaggio che inizieremo dalla prossima lezione quindi avremo modo di effettuare il duro lavoro quello di montare il tuo computer ora come sempre un grande saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima ciao a presto ciao a presto Grazie a tutti.